spiegazione teologica del catechismo di san pio decimo di padre carlo tommaso dragone parte prima 18 perché dio preme i buoni e castiga i cattivi dio preme i buoni e castiga i cattivi perché è giustizia infinita il giudizio finale dal vangelo secondo matteo capitolo 25 versetti dal 31 al 46 sarà il trionfo pieno e definitivo dell'infinita giustizia di dio che assegnerà ai giusti il premio meritato e agli empi il castigo proporzionato alle loro colpe la giustizia è la virtù che fa dare a ciascuno ciò che gli è dovuto è giusto il padrone che dà la dovuta mercede agli operai che se la sono meritata con il lavoro è ingiusto chi nega la retribuzione pattuita a chi l'ha meritata con il lavoro la giustizia di dio è perfetta e infinita egli deve perciò ricompensare il giusto al quale ha promesso come retribuzione delle opere buone il paradiso e non può lasciare impunito l'empio che calpesta le sue leggi e i suoi diritti dio non sarebbe più dio se non premiasse i buoni e non castigasse i cattivi meritano forse la stessa sorte il giusto elempio colui che ama dio e colui che l'offende forse giusto quel padre che lascia l'eredità da dividersi in parti uguali tra i figli che sempre sono stati in casa e che hanno lavorato e i figli che gli hanno mancato di rispetto che lo hanno gravemente offeso che non hanno avuto a cuore gli interessi della famiglia che hanno anzi dissipato i beni paterni dio non perdono agli angeli che avevano peccato e cacciateli nel tartaro li consegnò alle catene dell'inferno per essere tormentati e riservati al giudizio né perdono al mondo antico ma preservò con altri sette solo noè quando mandò il diluvio sul mondo degli empi seconda lettera di san pietro apostolo 2 4 il signore prove il giusto e il malvagio ma chi ama la prepotenza egli l'odio di cuore pioverà sui malvagio brace di fuoco zolfo e vento avvampante è la parte della loro coppa poiché giusto il signore ed ama le giuste azioni i retti vedranno il volto di lui salmo 11 5 7 a me la vendetta io farò la giustizia dice il signore romani 12 19 riflessione il pensiero che dio premia tutte le opere buone e che non può lasciare impunita nessuna colpa è di grande aiuto per vivere da buoni cristiani se non basta spronarci al bene e a trattenerci dal male il pensiero della divina volontà servano almeno la brama del premio e il timore del castigo esempi 1 dio castiga il primo peccato genesi 3 14 24 2 il signore manda il diluvio per punire l'impietà degli uomini genesi capitoli 6 e 7 3 nel giudizio finale cristo premia e castiga secondo il merito di ciascuno dal vangelo secondo matteo capitolo 25 versetti dal 31 al 46 sia lodato gesù cristo e ave maria